Consigliera Alessandrini, si parla tanto del problema mare, problema fiume a Pescara, il problema del depuratore, i tempi si allungano. Sì, allora abbiamo finalmente assistito al ritiro della vecchia delibera perché appunto anche il PD locale si è reso conto che di un nuovo depuratore non c'era bisogno, non era necessario quindi costruire un altro elemento così impattante sia a livello di inquinamento, sia nocivo per la salute, sia così costoso e appunto stiamo aspettando adesso la nuova delibera. La nuova delibera dovrebbe riguardare quella che il vice sindaco del vecchio definisce parco della filiera depurativa. Allora, fermo restando che un parco non esiste, un parco depurativo perché comunque ci sono leggi e direttive che vietano la vicinanza dei cittadini e delle abitazioni a elementi depurativi, a strutture depurative, aspettiamo di sapere che cos'è effettivamente questa filiera depurativa. Si parla di alcune vasche di raccolta di acqua di prima pioggia, vasche di sgrigliamento ma nessuno chiaramente attraverso anche dei documenti tecnici ha mai spiegato esattamente che tipo di struttura è e soprattutto di quanto spazio si ha bisogno. Perché nella delibera dovrebbero essere riconfermate le tre aree come indirizzo su cui collocare appunto queste nuove strutture ma ci aspettiamo di sapere esattamente di quanto spazio si ha bisogno e per fare che cosa. Dall'altra faccia della medaglia c'è la preoccupazione dei balneatori per l'estate che sta arrivando. Ci sarebbe stato bisogno di fare molto prima perché finalmente è un'epoca in cui i soldi li abbiamo, abbiamo molti soldi a disposizione per fare degli interventi che sono quelli necessari per risolvere il problema. Abbiamo detto più volte che il primo elemento, il primo intervento da fare è assolutamente quello della separazione tra la fognatura bianca e quella nera. Oggi che abbiamo all'incirca 30 milioni di euro a disposizione è il primo intervento che dovremo progettare e prevedere per risolvere questo problema definitivamente.